Ciao amico di Facebook, buon sabato, anzi, buona domenica, buona domenica da Pianazzola. Conosci Pianazzola? Sì. Impossibile, è un posto stupendo, meraviglioso, devi venirci. Ci siamo già stati, due anni fa e più, era un luglio piovosissimo, invece adesso siamo praticamente a ridosso dell'inverno. 13 dicembre, prima giornata di zona gialla, allora siamo usciti un po' dai confini, poco poco, e siamo venuti al sole, perché Pianazzola è un posto stupendo, sempre soleggiato. Si affaccia su Chiavenna, 627 metri sul livello del mare, bellissimo, bellissimo. Vieni in questo periodo, anche a piedi, puoi salire, ma c'è anche la strada, perché è stupendo, sempre baciato dal sole. C'è la neve che si sta sciogliendo, ci sono queste canali a sbalzo, e ti piove l'acqua addosso, bellissimo. C'è anche un ristorante, aperto da oggi. E c'è un bellissimo albero di Natale, in piazza della chiesa. Fatto tutto con la lana, all'uncinetto. Bellissimo, ha fatto le donne del posto, li vediamo. C'è la chiesina di San Bernardino da Siena, del XV secolo, con un bellissimo affresco all'esterno, del 1495, di De Passeris di Torno. C'è il campanile del 1888, che domina la valle. Hai una splendida veduta sulla skyline della bregaia, con la cima del badile, molto ben visibile da qua. Insomma, non manca niente. Ciao amico di Facebook, buon sabato da Pianazzola, poi ti mando le foto e vedrai. Bellissimo. Baci, baci, baci. Baci, baci. Baci, baci. Baci, baci. Grazie a tutti